La birra di oggi è una birra un po' particolare e di cui non conosco lo stile, a dire il vero non è diciamo uno stile classificato nel BJCP o altri metodi di sistemi di riferimento. Questa birra si chiama Mesos del birrificio italiano Licor Day. Ok, vediamo la scheda tecnica di questa birra che immagino potrà essere la scheda con il maggior numero di punti di domanda di questa rubrica. Il produttore è appunto Licor Day, micro birrificio di Gessate, provincia di Milano. La birra in questione si chiama Mesos, lo stile non ve lo so dire e dopo vediamo un attimino perché non sappiamo dare uno stile a questa birra. Grado alcolico 6,5, prezzo non lo conosco, questa birra è un campione che mi è stato dato in prova dall'agente commerciale di questo birrificio. Bicchiere non ne odea anche in questo caso perché appunto non conosco lo stile, quindi ho preso un tecu giusto per far finta di essere a una competizione, e quindi di fare un assaggio, un blind test. Sì, si tratta di un primo assaggio. Come dicevo non conosco lo stile di questa birra ma ho preso direttamente la descrizione, così evito di riportare ciò che mi è stato spiegato e prendere direttamente dalla fonte, quindi dall'internet. Come stile viene indicata speciale a base di malto d'orzo, datteri, miele, cardamomo, ispirata a birre dell'epoca mesopotamica. Questa cosa mi affascina moltissimo, infatti il nome Mesos si rifà proprio a questo, al nome che ricorda un po' le birre della Mesopotamia, dove probabilmente è nata, se non la birra comunque diciamo che si pensa possano essere nate le prime bevande fermentate. In realtà la fermentazione è un processo che è stato ovviamente scoperto da qualsiasi popolo nella storia, quindi la Mesopotamia, essendo uno dei popoli più antichi, probabilmente conosceva già la fermentazione di composti zuccherini. Piccola nota sulle birre, diciamo, antiche o ispirate a metodologie o ricette antiche, sono curiosissimo di assaggiare questa Mesos, ma ci sono diversi birrifici che, ed è una cosa bellissima, stanno provando ad approcciare questo modo di interpretare le birre. Secondo me due considerazioni velocissime da fare, ricordarsi sempre, è che ovviamente non possiamo immaginare di riuscire, e mai ci riusciremo a bere la stessa cosa che bevevano in Egitto, che bevevano in Grecia, che bevevano anche solo gli antichi romani, di cui magari abbiamo più testimonianze, o che bevevano in questo caso i nostri antenati babilonesi. Questo per tutta una serie di motivi, che va innanzitutto dal fatto che le materie prime non possono essere lo stesse, al di là dell'acqua, sicuramente i cereali hanno subito in 4.000 anni un processo, o anche più, un processo di selezione artificiale, quindi i cereali che abbiamo adesso, anche quelli che, quei produttori che vantano di avere cultivar di grani antichi, comunque sono state selezionate nei millenni per avere sempre piante con rese maggiori, cariossidi più grandi e così via. Quindi sarà difficile avere esattamente la stessa cultivar, la stessa varietà di orzo che era diffusa nell'antico Egitto o in Mesopotamia. Altra cosa è ovviamente l'utilizzo anche del lupolo, che per esempio è una cosa abbastanza recente. Per anni è stato utilizzato il Gruit, che è un mix di erbe e di spezie. A tal proposito, c'è un ragazzo che ha fatto una ricerca bellissima, ha creato un piccolo database con un sacco di informazioni sul Gruit e come utilizzarlo nella birra. Può essere utile sia che vi piaccia fare la birra in casa, che siate un brewer, sia che invece volete solo andare a leggere di queste informazioni. Vi lascio tutti i link in descrizione, ovviamente. E appunto il Gruit è stato per anni un po' avversario o comunque competitor del lupolo, finché a un certo punto, per diversi motivi, vuoi per decreto reale in Germania, vuoi per praticità di conservazione in Inghilterra, comunque il lupolo ha preso il posto del Gruit, appunto. Nonostante ciò, però, appunto, c'è un produttore, se non sbaglio, piacentino. Abbiamo visto una birra a Castellarquato, se non ricordo male, che deve essere appunto da quelle parti, che produce una linea di birra con il Gruit, quindi senza lupolo ma con il Gruit. Ce ne sono altri anche, ovviamente, in centro-nord Europa, produttori che fanno queste cose, e molti ombriu si stanno avvicinando a questo approccio senza lupolo ma appunto con il Gruit. Ultima cosa importantissima che spesso ci dimentichiamo è il lievito, perché se si è modificato, sicuramente, se si sono modificati i cereali, pensiamo al lievito, a quanti ceppi oggi noi conosciamo, e oggi possiamo andare a fare esattamente la birra col ceppo saison, che va bene a 28 gradi perché voglio fare quel tipo di birra, cose che ovviamente non potevo fare diversi anni fa, cioè molti anni fa. Giusto per fare un esempio, secondo me è sempre molto significativo, pensate che nel famoso decreto della purezza, nel Rhein-Einsgebot, non viene nominato il lievito, vengono nominati tre dei quattro ingredienti magici, che sono appunto acqua, malto d'orzo, lupolo, e non viene nominato il lievito. Bisogna aspettare, il Rhein-Einsgebot, se non ricordo male, è dell'inizio del 1500, ma bisogna aspettare l'esplosione della microbiologia, la più bella delle scienze senza dubbio, con quindi Pasteur e compagnie bella, che appunto comincerà a capire che ci sono elementi microbiologici appunto, che fanno fermentare, quindi degli esseri viventi che fermentano e fanno questa reazione particolare, che è appunto la fermentazione alcolica. Infatti, lo stesso Rhein-Einsgebot non comprende l'utilizzo del lievito, questo perché storicamente veniva utilizzato il fondo di fermentazione, di una precedente fermentazione, per farne partire una nuova. E il che mi fa pensare che probabilmente le birre che beviamo adesso, anche stili appunto più recenti rispetto a questi esperimenti, che possono essere appunto stili tedeschi, stili d'abbazia, stili inglesi, eccetera, probabilmente quelli che beviamo oggi sono molto diversi, in cui abbiamo ceppi selezionati, che non vengono, cioè vengono sempre fermentate, queste birre vengono sempre brassate con nuove cellule di lievito, quindi non c'è lo stress di un lievito che deve effettuare più fermentazioni di seguito, con tutti i problemi legati alle cellule morte e così via. Insomma, probabilmente le birre, anche le birre che venivano consumate solo un secolo fa, erano diverse da quelle che stiamo bevendo oggi. E a tal proposito c'era un bellissimo articolo su fermento birra, credo fosse dell'anno scorso ormai, era tutto un numero di fermento birra dedicato a stout, porter e birre scure di stampo britannico, e l'articolo metteva in evidenza, uno dei primi articoli metteva in evidenza, su come probabilmente le stesse porter e stout, che venivano consumate meno di un secolo fa in Inghilterra, fossero un po' più acide di ciò che beviamo oggi. Oggi ovviamente possiamo avere un controllo molto preciso, dal pH alla vitalità del lievito e così via, insomma, cose che prima non avevano. Tutto questo per dire cosa? Che probabilmente le birre, anche questi esperimenti, saranno molto diverse da ciò che si beveva all'epoca, ma resta comunque, secondo me, un esperimento molto, molto interessante. Ho parlato a lungo, ma prima di aprire la bottiglia, come al solito, un paio di informazioni sull'estetica di questa bottiglia. Il tappo è di color ottone, non presenta alcun logo. Sulle bottiglie, allora, tra l'altro ho qua tutta la confezione di Licor Day. Sono esteticamente molto belle queste confezioni, molto semplici in cartone, però c'è appunto in rilievo il logo, con questo simbolo davanti un po' fa pensare a qualcosa di celtico. E' un fonte, anche qui, molto fantasy. Ah no, scusate, c'è dentro una rogue, ma non c'entra niente questa. L'ho messa lì solo per trasportarla. Dentro ci sono altre bottiglie. Vabbè, c'è una IPA, c'è una APA che ho già bevuto, ho una VICE, queste magari vedrò di farci altri video. E una Pale Ale, però mi piaceva appunto mostrare la confezione. Ecco, se si vede, sì. Ok. Dicevo, tutte le bottiglie hanno un'etichetta simile, una grafica di questo tipo, con il logo, il nome della birra e sul retro le classiche informazioni, ingredienti, volume alcolico, eccetera. Ah, non mi ero accorto che come bicchiere consigliava la classica pinta. In realtà io non sapendolo ho preso un tecu perché ho pensato proprio di fare un'analisi alla cieca. Allora, questo è un mini tecu per essere precisi, tra l'altro era brandizzato birraio dell'anno, credo fosse quello che mi era stato dato a un corso di, sempre di fermento birra. Ehm, sì, era sempre di fermento birra, questo mini tecu infatti, da 0-15. Quindi ci sta molto meno di quanto non ci fosse all'interno della bottiglia, ma può essere utile comunque per una degustazione. Allora, incominciamo dall'analisi visiva, ovviamente. C'è una bella, bel capello di schiuma, molto compatta e molto, molto soffice, completamente regolare, di colore bianco. La birra ha birra molto limpida, si vede già una buona carbonazione e di un color paglierino, praticamente molto, molto acceso. Passiamo quindi al naso. Allora, abbastanza esplosiva nel naso. Diciamo che ci sono un paio di cose interessanti. Sicuramente due cose emergono subito. Una parte fruttata e una parte speziata. Se vogliamo provare a entrare nel dettaglio, non è semplice. La parte speziata non potrei essere più preciso. Mi viene da pensare, boh, forse al coriandolo, ma forse perché solitamente è una cosa che ricorre in certe season, insomma, mi fa pensare un po' al coriandolo, ma mi atterrai a un generico speziato. Mentre sul fruttato c'è tantissima roba. A un certo punto mi sembrava di sentire agrumi, poi mi è sembrato di sentire frutta tropicale. C'è anche dell'altro, però. C'è anche un leggero profumo di miele e più o meno le cose che ci sono sono queste. Appunto speziato, fruttato, fruttato principalmente su tutto il fruttato. E adesso mi sembra di sentire anche un pochino di miele. Infatti la birra si sta scaldando, la temperatura consigliata è su 10 gradi. Probabilmente così a sensazione abbiamo anche già superato i 10, saremo già oltre questo valore. Vediamo in bocca. Allora, incominciamo perché è strana come birra, effettivamente. Potrebbe ricordare, forse sì, una season golden ale, diciamo giusto per inquadrare un attimino il genere, ma è qualcosa di diverso ancora. Allora, partendo dalle classiche sensazioni, dolce, amaro, salato, acido, umami. Allora, c'è sicuramente un pochino di dolce, non eccessivo, medio, medio, basso il dolce. C'è un leggero acido, questo sì. È leggero, insomma, non siamo a livelli di birra acide, ma comunque è un discreto acido, più, secondo me, della maggior parte delle season, o comunque delle season classiche. Per classiche, adesso in mente la season dupone, ovviamente, sì, è più acida di quella. C'è forse un leggerissimo salato, la cosa è molto particolare, perché si sente comunque in bocca un leggerissimo, leggerissimo salato, un pizzicore. E l'amaro è medio, anche in questo caso, medio-basso, soprattutto non c'è sul finale della bevuta un classico amaro, però, adesso che sto parlando, un pochino di amaro, come spesso accade, comincia a tornare. E quindi la persistenza in bocca, tra tutte le cose che abbiamo sentito, è sicuramente solo dell'amaro. Leggero, piacevole, ma persiste solo l'amaro. Per quanto riguarda le sensazioni boccali, direi sicuramente una carbonazione media, una leggerissima stringenza, una leggerissima stringenza, ma leggerissima. E l'alcol? Allora, sì, si sente, diciamo che mi aspettavo che si sentisse meno l'alcolico, per essere una birra da 6 gradi, 6 gradi e mezzo, se non ricordo male. Controlliamo. 6 gradi e mezzo, infatti. Mi aspettavo, appunto, che fosse leggermente minore l'alcol, o meglio, che non si sentisse. In realtà si percepisce un pochino di alcolico. Per quanto riguarda retrogusto, retroolfatto, direi che un pochino, c'è ancora questa parte fruttata e grumata, poi appunto questa persistenza amarognola leggermente dopo la bevuta, che appunto rimane della cosa più persistente, non più intensa, ma più persistente. E tutto sommato, direi che finisce così la birra. Forse non è eccessivamente complessa, ma sicuramente molto interessante. Potrebbe spiazzare forse questa acidità, che però, secondo me, è corretta, e soprattutto se pensiamo alle birre del passato, come detto prima, sicuramente saranno state birre molto più acide rispetto a quelle che siamo abituati a bere oggi. Di conseguenza questa birra, che potrebbe attrarre, secondo me, molto anche un pubblico neofita, perché è una birra poco amara e spesso mi capita di notare che chi si approccia alle birre senza magari conoscere bene il panorama brassicole e diversi stili, possa cercare una birra dolce. Questa sì, è una birra tutto sommato non dolce, ma poco amara. Però c'è questa acidità che appunto potrebbe spiazzare leggermente, quindi bisogna aspettarsi una birra, comunque un filo acida. Ultima cosa molto interessante che apprezzo tanto, che sulla bottiglia ci sono indicati, oltre ad alcune indicazioni appunto, scusate il gioco di parole, su come versare la birra, che consiglia di versare accaduta con abbondante schiuma, ci sono anche gli abbinamenti gastronomici. Questa è una bella cosa. A dire il vero, sugli abbinamenti sto pensando di fare una puntata, ma è molto difficile la cosa, e quindi credo che questa puntata sarà pronta fra diverso tempo. Comunque, gli abbinamenti gastronomici che consiglia sono agnello in casseruola, couscous con pollo, molto interessante questo abbinamento, secondo me, e piatti con verdure. Sì, sarebbe interessante in effetti provare ad abbinare questa birra. Io in realtà bevendola e trovando questo fondo acido, in effetti stavo proprio pensando a come si può abbinare una cosa di questo tipo. Effettivamente piatti di carne, come l'agnello in casseruola, potrebbe essere una bella idea. Altra cosa che stavo pensando, magari a certi formaggi, magari formaggi particolarmente stagionati, potrebbe essere un altro abbinamento. Questa era quindi la Mesos di Liquor Day Skoll. Grazie a tutti.